Non è un amico, lui è un fratello Diciamo che stiamo parlando di Gianmarco Pozzetta Del dio del basket Lui è il dio, io sono San Pietro No, Gianmarco è una persona meravigliosa lasciando stare il fatto che lui è il migliore italiano secondo me nella storia della pallacanestro italiana della mia generazione soprattutto durante la settimana che per me personalmente è stata una settimana molto difficile dal punto di vista emotivo Gianmarco mi ha chiamato e mi mandava messaggi ogni giorno mi ha chiamato sabato, mi ha chiamato domenica pomeriggio facendomi rilassare nel posto pranzo mi ha chiamato la sera, posto partita mi ha chiamato la notte ubriaco e mi ha chiamato ovviamente anche lunedì mattina ma sono tutti, sai, nei momenti difficili, nei momenti di difficoltà vengono fuori i veri amici e lui per l'ennesima volta è stato lì a fianco a me non lo poteva fare invece l'ha fatto e ti ripeto per l'ennesima volta perché quando ho avuto il problema di mio padre lui è stato, noi eravamo a Torino e lui mi accompagnò all'inate per farmi prendere per farmi prendere l'aereo queste sono piccole dimostrazioni di persone vere, di persone care di persone che ci tengono che capiscono la situazione Gianmarco Pozzecco per me è un caro fratello nei momenti di difficoltà lui c'è sempre mi auguro che a lui non succederà mai una situazione di questo genere però qualora ci dovesse essere Gianmarco sa benissimo che anch'io ci sarò insomma siete le due icone belle in questo momento del basket siciliano lo sai che sei diventato ormai un'icona anche tu? no, no, no lui è al di sopra di tutto credo che Gianmarco sia ripeto, oltre ad essere un idolo lui è una bella persona dopo dal punto di vista sportivo sai quando si vince e si vince è sempre facile dire sei un fenomeno vediamo dopo nei momenti di difficoltà quello che succede perché ci arriveranno pure i momenti pure difficili anche per me però mi auguro che questi momenti difficili arriveranno magari nel 2015 mi dice